GF VIP 7, Davide Donadei e il commento Daiane Mello che scatena le critiche dei social. Stanno destando clamore alcune frasi che Davide Donadei avrebbe rivolto verso Daiane Mello. L'extronista di Uomini e Donne, attualmente nella casa del grande fratello VIP, avrebbe espresso dei giudizi su un argomento delicato di cui è stata protagonista la modella brasiliana. Come ricordiamo, nel corso della sua permanenza nel reality show, in piena pandemia mondiale, Lamello aveva perso suo fratello. Un dolore immenso che l'ex VIP on ha preferito affrontare insieme ai suoi ex coinquilini. Scegliendo di rimanere nel programma, piuttosto che ritirarsi era febbraio del 2021. Quando ancora era molto difficile, se non impossibile, muoversi da un continente all'altro causa Covid. Come riportato dai colleghi di Beach It, Davide Donadei, chiacchierando con Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizzon. Ha parlato del lutto che aveva colpito Daiane. La Pelizzon avrebbe replicato. Antonella invece ha compreso l'ex concorrente del GF VIP. Grazie. 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 Grazie.